Con una serie di cerimonie Calatafimi si appresta a celebrare domani domenica 15 maggio la ricorrenza della battaglia avvenuta nel 1860 tra i garibaldini e borbonici che secondo molti storici aprì la strada all'unità d'Italia. Sul luogo venne retto il sacrario di Pianto Romano per raccogliere i resti di quei caduti in battaglia. L'appello iniziale per la costruzione di un monumento che raccogliesse i resti dei caduti e ricordasse la battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860 fu lanciato il 9 settembre dello stesso anno da un comitato di abitanti del piccolo centro. Ma fu solo il 15 maggio 1892 che il sindaco Salvatore Cabasino alla presenza del generale Anzien de la Battier rappresentante del re Umberto I potè inaugurare il sacrario di Pianto Romano progettato nel 1885 da Ernesto Basile. Contiene un ossario dove sono custodite le spoglie dei caduti, garibaldini, picciotti e borbonici e altri cimeli. Domani l'associazione Bosco Angibè, la Proloco, il comune di Calatafimi e i cavalieri del Mito hanno promosso una serie di cerimonia che si apriranno alle 10 con il raduno presso l'ossario di Pianto Romano. Seguirà l'alzabandiera e la sfilata dei cavalieri in tenuta garibaldina. Nel pomeriggio degustazione di prodotti tipici al Bosco di Angibè ed escursioni. Il sacrario sorge proprio nella sommità dell'altura che fu teatro della battaglia e dalla forma di un obelisco.